Marco Tonio oggi provo questa che è una bevanda giapponese per rilassarsi pensate che è stata vietata dall'esercito degli Stati Uniti è praticamente il contrario di un energy drink vi garantisco che funziona sono state fatte varie ricerche scientifiche profumo fruttato un po' come un succo tropicale però frizzante fate finta uno degli ingredienti principali di questa bevanda è la teanina che è un aminoacido contiene anche 20 mg di GABA che è un altro aminoacido questa bevanda contiene anche estratto di semi di canapa ovviamente questa è una bibita legale bevendo questa bevanda il test antidroga può risultare positivo praticamente la bevi se è rilassato riesci anche un po' a concentrarti meglio su alcune cose e anche di notte potrebbe aiutare a favorire il sonno più o meno un euro e mezzo a lattina e al prossimo video dal Giappone ciao ciao